Quando è? Capitano mai di essere preoccupati per la morte di qualcuno? Che cosa andate a vedere? Esatto, le funzioni biologiche primarie, quindi respirazione, battito cardiaco, temperatura, no? Ci sono dei segni tipici della morte fisica, che sono segni scientifici, no? Poi viene chiamato il medico legale, si stabilisce che la persona è morta. Quindi che cosa facciamo prima di tutto? Vedete, una persona lunga per terra da due ore e non fa una piega. Che cosa fate? Ok, dove state a sentire il battito cardiaco? Allora, il polso radiale. Il polso radiale sapete come si prende? Allora, questa, dalla laterale è radio. La posizione anatomica è questa, laterale è radio, sta sul pollice, mediale, cioè verso il centro, l'ulna. Ci mettiamo sotto l'apofisi del radio e esercitiamo una piccola pressione. Lo sentite il battito cardiaco, il battito cardiaco, pollice, seguite la cresta del pollice e ruotate. Sentite? Ok. Arterie, piano, piano. Una pressione più alleggera e più sentite. Ok. Questo è il ritmo del vostro battito cardiaco. Qui lo sentite bene, potete contare anche i battiti, no? Si sente perfettamente. Ed è dato da un ritmo che è sistole-diastole. Che vuol dire sistole-diastole? Sistole-diastole. 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 Cioè, contrazione e rilassamento. Che è quello che fa tutto l'universo costantemente. È quello che fate voi quando vi muovete. È quello che fa il muscolo. È quello che fanno le funzioni vitali. È quello che fa il ciclo della vita. Cioè, si nasce, si sviluppa e si muore. Si passa dal positivo al negativo. Cioè, è proprio un circolo vitale. Chi è che impone e che dà questo ritmo? Da dove viene sto sistole-diastole? Dal cuore per il corpo, ma il cuore da chi glielo dà? Cioè, la lamina cariogenica, che è una parte del cuore che è a livello embrionale dal quale si sviluppa, dove partono una zona che parte degli impulsi, parte il cervello. Ma il cervello è chi glielo dà? E perché nell'universo c'è sempre questo ritmo qua? È lo stesso movimento dell'universo. Va proprio, è la risonanza del nostro microcosmo con il nostro macrocosmo. Nessuno dà questo ritmo. Eppure tutti ce l'abbiamo. È innato. Il momento in cui c'è questa interruzione del corpo grossolano, della sistole e della diastole, si passa ad un piano successivo. Quindi si passa al piano più sottile del corpo. Il corpo fisico grossolano cambia forma, cambia dimensione, cambia percezione. Altra modalità per ascoltare il battito cardiaco è sulla giugolare, qui sotto la gola. Ok? Se non volete toccare la persona, perché magari è una persona che non conoscete o che cosa, magari, non so, vedete una persona che sta, purtroppo nella vita può anche capitare, incappare un incidente in qualcosa, che cosa fate? Mettete uno specchietto sotto il naso. Vedete se respira. Ok? Quindi, salvo e freddo e la constatazione dei segni, dei parametri vitali principali, è questa. Quindi, la morte è una condizione che fino a un certo punto è reversibile, poi diventa irreversibile. I segni che noi andiamo a individuare sono la rigidità, proprio tipici della morte, la freddezza, l'evaporazione acqua, quindi la pelle diventa incartapecorita, l'affondamento dei bulbi oculari, le macchie, le macchie postatiche per la mancanza di circolazione, e quindi la circolazione assenze. Poi si innescano dei processi, che sono dei processi autodistruttivi del corpo, per cui si innesca il processo di autodisi, di autodigestione e di putrefazione, che sono dei processi successivi attraverso i quali l'organismo, cioè il corpo fisico, la parte più esterna del corpo, si decompone. Ovviamente, per chi ritiene che ci sia, ognuno di voi ha le sue credenze, le sue filosofie, le sue religioni, le sue pratiche, però per chi crede che ci sia solo il corpo fisico, quello è un momento in cui finisce tutto. Poi, a seconda delle diverse tradizioni, ognuno ha le sue credenze, e io cercherò di essere quantomeno imparziale e di farvi un po' avere un'idea di quello che in giro si dice rispetto all'argomento. La cosa più triste è che molto spesso, specialmente in Occidente, in alcune zone, ma non solo in Occidente, c'è una tendenza a associare la morte con la stregoneria, con il diavolo, con l'occulto, con tutto quello che è archetipicamente identificato con ciò che è male, ciò che fa paura, quindi tutto quello che è proprio negativo per l'uomo. In realtà bisogna fare una grossa differenziazione e quindi conoscere molto bene l'etica, cioè capire bene ciò che è bene e ciò che è male. Innanzitutto il bene è dato dalla conoscenza, il male è dato dall'ignoranza. Tutto quello che è bene si avvicina alla luce e alla conoscenza, tutto quello che è male si avvicina all'oscurità, all'ignoranza. Ci sono delle affermazioni che sono state fatte da alcuni padri esorcisti, come Gabriele Amort, che purtroppo vi mettono in cattiva luce, perché voi insegnanti di yoga venite a praticare yoga, è satanico come leggere Harry Potter. Questa è una citazione che vi riporto testualmente da parte di un frate esorcista, di un prete esorcista, che è Gabriele Amort, uno dei più conosciuti, e che è scomparso anche lui quest'anno, il quale teneva in considerazione molto il film di Harry Potter, perché sembra che Harry Potter tutte le formule magiche che diceva siano delle formule magiche reali, insomma, non sono poi così inventate. Ma, e qui la lancio lì e chiudo l'argomento, come faceva Gabriele Amort a sapere le formule del male se non gli appartengono?